L'Avastese calcio vince 2 a 1 sul difficile campo del Portodascoli al Riviera delle Palme e sale a quota 23 punti in classifica con il Portodascoli che rimane a quota 28 partita strana al Riviera delle Palme con un Portodascoli ampiamente rimaneggiato causa squalifiche e infortuni, fuori Verdesi per squalifica appunto D'Alessandro sempre per squalifica e Battista per infortunio con Napolano acciaccatissimo ma comunque in campo. Il match si mette subito bene per gli ospiti che trovano il doppio vantaggio con Agnello all'ottavo, tiro deviato in gol e poi al diciottesimo il raddoppio di Scafetta troppo solo, colpevolmente solo sul primo palo sul calcio d'angolo ancora pennellato da Agnello il primo tempo finisce 2 a 0, la ripresa entra in campo un altro Portodascoli con un altro Piglio anche grazie al doppio campio di Ciampelli che inserisce Petrici insieme a Pietro Paolo e al 55esimo arriva l'euro gol di Pasqualini, sinistro bomba sotto l'incrocio dei pali che riapre tutto da lì in poi un'altra partita, Lavastese ha paura, il Portodascoli spinge, cerca il pareggio nonostante le tante assenze nel finale, finora ripala anche un rigore a Alessandro al subentrato Jonathan Alessandro, ex Samb, ma il risultato arriva delle palme, non cambia più vince Lavastese 2 a 1 contro un Gagliardo, gagliardissimo Portodascoli quando si perde si può fare sempre meglio, Lavastese è forte, credo che l'anomalia è che Lavastese abbia solo 23 punti quindi per il valore della Rosa e per il valore della squadra e quindi su questo credo che non ci siano dubbi poi se qualcuno fa comodo dire qualcos'altro non c'è nessun problema Sapone ha fatto una buona partita, sapevamo che era un po' forzato poterlo mettere subito in campo dall'inizio ma chiaramente le assenze che oggi erano comunque assenze importanti per la nostra squadra ci hanno portato a fare una scelta forzata nell'11 iniziale e per quanto riguarda la partita noi abbiamo fatto un buon primo tempo ma siamo stati bravissimi a rimanere in partita con i nervi, con l'orgoglio, con l'umiltà di accettare che oggi è una giornata difficile e dura Questo stadio quando passo lo vedo sempre da lontano e per me è sempre stato ed è un onore aver partecipato anche se in un momento molto particolare di quella stagione, insomma per come sono andate le cose con un fallimento, con una società, con dei soldi da prendere che non ho preso naturalmente però questo è il minimo, rimane il grande ricordo di aver fatto parte comunque di una società blasonata di una città di un ottimo livello sia calcistico che di vita e quindi questo mi riempie di orgoglio perché quando parlo dico che ho allenato anche la San Benetese e quindi ho un motivo di orgoglio ma anche di stima nei confronti di questa città e della gente che viene poi allo stadio Grazie